Il corso avanzato di amministrazione del personale offre una formazione specialistica approfondita, ideale per chi ha già una base nell'amministrazione del personale. Approfondisce tematiche cruciali come le diverse tipologie di contratti di lavoro, la gestione della flessibilità e le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro, affrontando anche l'uso degli ammortizzatori sociali. Il corso garantisce un costante aggiornamento sulle novità normative, fornendo strumenti pratici per gestire in modo efficace le complessità gius lavoristiche attuali e future. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi rigenti.